Colleghi e rappresentanti del Governo, il provvedimento che oggi stiamo convertendo in legge segna la fine di un sistema strutturato ad un solo ed unico scopo, fare del fenomeno migratorio un business. Con il provvedimento che oggi è in discussione in quest'Aula, si pone la parola fine a questo sistema deviato, un sistema che si avvantaggiava della coesistenza nel nostro ordinamento di due diverse tipologie di strumenti di protezione internazionale. La prima di matrice europea e la seconda di origine interna, costituita da quei provvedimenti rilasciati, per non meglio specificati motivi umanitari, che avrebbe dovuto costituire un'eccezione da applicare in ipotesi particolarissime. Proprio attraverso questo secondo strumento è stato possibile procedere ad un'emissione di massa di permessi umanitari, che ha portato, come confermano i dati ormai tristemente consolidati degli ultimi anni, ad una crescente sproporzione tra i riconoscimenti di protezione internazionale disciplinati a livello europeo e il numero di rilasci di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Una prassi dettata dall'interesse ad assicurare la più lunga permanenza possibile degli immigrati, che sbarcavano numerosi, grazie all'aiuto delle ONG e degli altri trafficanti che hanno trovato nel bacino del Mediterraneo la loro valle dell'oro. Immigrati, nella stragrande maggioranza, privi dei requisiti per poter ambire al rilascio dei permessi previsti dalla disciplina internazionale, ma che, grazie all'uso distorto che è stato fatto degli strumenti previsti dal diritto interno, hanno potuto rimanere e far prosperare le associazioni impegnate nel sistema di accoglienza. La nuova disciplina prevede un'individuazione precisa dell'ipotesi in cui la protezione può essere riconosciuta. Sancendo così la fine di quel sistema di falso moralismo e di evidente opportunismo economico, che ha così duramente colpito il tessuto sociale delle nostre comunità, garantendo al contempo una tutela effettiva ed efficace ai soggetti che ne hanno realmente diritto e necessità. La protezione internazionale deve essere concessa solamente a quei soggetti che ne hanno veramente titolo. Si contesta poi che il provvedimento licenziato dal Governo e dal Ministro Salvini abbia l'effetto di produrre un elevato numero di irregolari. Nulla di più falso. L'intenzione è quella di superare le ipocrisie attraverso la concessione di provvedimenti solo per chi ne ha titolo. Quello dell'accoglienza è un sistema complesso, fatto di più fasi di tempistico ormai chiare. È noto dalle relazioni tecniche del Ministero che occorrono mediamente cinque mesi per il completamento delle procedure necessarie all'accertamento dell'identità e nazionalità degli irregolari e all'acquisizione dei necessari documenti di viaggio per il rimpatrio. Con la legge 161 del 2014 il trattenimento fu abbassato nel limite di non oltre 90 giorni, rendendo di fatto impossibile procedere all'effettivo rimpatrio degli stranieri irregolari. Una situazione che oltre che prevedibile era anche ampiamente aggirabile, ma che i governi del PD hanno preferito gestire e mettendo a cascata permessi umanitari a chiunque ne facesse richiesta. Mi rivolgo alla senatrice Bonino per dirle che nel 2000 noi abbiamo trattato di badanti e di colf. Oggi con questo provvedimento noi stiamo parlando di spacciatori, non di badanti, di spacciatori. Questo è un blef a spese degli italiani, un blef per giunta costoso, dato che poi il sistema si completava con i progetti di accoglienza meglio noti come SPRAR, per intendersi quelli dei 35 euro al giorno, a favore delle COP e delle ONG leader indiscussi di questo munifico business. Un sistema sapientemente regolato per garantire una lunga permanenza da parte del più ampio numero di soggetti accolte a spese dei cittadini. La previsione di un prolungamento a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri garantisce invece di poter svolgere l'intera procedura necessaria alla verifica dell'identità, della nazionalità e del possesso dei requisiti per i richiedenti alla protezione internazionale, senza correre il rischio di perdere il contatto con soggetti che fino ad ora, di corsi inutilmente 90 giorni previsti, facevano sapientemente perdere le proprie tracce. Uno strumento dunque veramente in grado di distinguere tra venti e non aventi diritto, predisponendo l'opportuna tutela ai provvedimenti idoni per i primi ed un immediato respingimento per i secondi. Ma non solo. Il sistema fino ad oggi vigente permetteva de facto a soggetti che si erano macchiati di gravi reati e di continuare le loro scorribande del tutto indisturbati. Con il decreto sicurezza tutto cambia. Una norma di buonsenso che prevede l'immediato respingimento per chi, pur dichiarando di venire in Italia per sfuggire a guerre, persecuzioni e carestie, in realtà delinque e utilizza il nostro sistema garantistico per seguire scopi manifestamente illeciti. Perché se è vero che un reato commesso da un italiano da un richiedente asilo ha in sé il medesimo disvalore, è altrettanto vero che se a delinquere è un soggetto che viene chiedendo ospitalità e protezione, allora è evidente come questo debba essere rimandato indietro con la garanzia che non possa più tornare. È compito dello Stato assicurare i propri cittadini dal rischio di infiltrazione di soggetti dediti ad ogni sorta di delinquenza. Questo provvedimento è ad ampio raggio e va a normare diversi aspetti attinenti alla sicurezza e, per citarne alcuni, dotazione in via sperimentale alla Polizia Locale di armi e ad impulsi elettrici, misure per il potenziamento e la sicurezza delle nostre strutture penitenziarie, modifiche al codice antimafia, divieto di esecuzione degli arresti domiciliari in immobili occupati e tanto altro ancora. Per tutte le ragioni fin qui analizzate, si tratta quindi di un provvedimento che deve essere convertito in legge per riportare finalmente buon senso e difesa della sicurezza nazionale, riaffermando concetti come legalità, sovranità e sicurezza, che i precedenti governi avevano di buon grado sacrificato sull'altare del Dio Denaro. Grazie. Grazie, signor Presidente Misini. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore.